Poi panni si è lungo, ma non per ricevare, che ad un cuci griscia e cuci nesta di giovani ti voglio consegnare state varo fare se eserci e migrare che ad ognuno consiglia l'artavuce a un eroe rodotto di notte e noce quelle ricche azze già la casa avete senza pensare o innattati e mare e mondesi circondati non fa stanchi e tanti oliviti c'è lui il raggio pratica reggina portando bene l'asio e l'argina ogni giuraglia si sopra la montagna e da che ad un cuci guarda e giù che pari pedra avea tu che le ponte bussuevo e tante case già lo pranegato calabria mia la tua 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 ricchezza hanno soffitto ha vise cortesosizze farò cantigli baneggiano state a re da portano a non perdono più viciosa casa tavola e parata la vento è ramburoso pressate o può mangiare un caso pego reno è puro lupi e puoi asciutto di meno la vento è ramburoso 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 Grazie a tutti.